Qualcuno l'ha ribattezzato il mostro da 3 miliardi cifra che mette sotto i riflettori la burocrazia in Sicilia, fenomeno endemico e cronico come una malattia che raddoppia i costi ai cittadini e dilata in maniera impressionante i tempi per ottenere delle concessioni. Ad esempio per una concessione di lizia passano di solito non meno di due anni con il cittadino smarrito nel mare magnum di carte bolli. Nel settore agricolo invece gli imprenditori siciliani regalano alla burocrazia 2 euro ogni ora di lavoro che diventano 20 al giorno e poi 600 al mese, dati questi forniti dalla CIA, mentre un discorso a parte merita la gigantesca mole di firme, timbre e documenti che le aziende sono costrette a produrre. Carte che messe in fila per ogni singola impresa superano i 4 chilometri. Nel settore poi del fotovoltaico sono bloccate ad oggi investimenti per 5 miliardi e una pratica di autorizzazione compie in media 262 passaggi dagli uffici prima di essere completata. Non va meglio per gli anziani le loro pensioni. Per incassare ad esempio la pensione di invalidità il limite massimo sarebbe di 180 giorni ma c'è chi ha atteso anche 5 anni. Nel frattempo il beneficiario del vitalizio è morto. Naturalmente ci sono sempre furbi che cercano di scavalcare la montagna di carte, scorciatoi queste vie di fuga che spesso sconfinano nelle illegalità e dove spuntano le famigerate mazzette. Furbi che spesso vengono poi pescati con le mani nel sacco. Loro però ci provano mentre a tutti gli altri non resta purtroppo che aspettare.